La mente è qua in questo periodo di testa, perché questa è veramente una cosa importante per noi, per spingare tutto in maniera molto solida, come spesso facciamo le nostre visite guidate verso le culture, altre cose, e quindi non si attiviscono sui visiti del fuoco, perché per i nostri ragazzi ogni giorno facciamo le prove in caso di terremoto, in caso di alluvione, io sono la trombetta e loro sanno già come si devono muovere, poi c'è la guardola vince del fuoco, abbiamo conosciuto, venendo qua a una pista, vince il fuoco, sono amici, i nostri ragazzi hanno praticamente come riferimento, non tanto la polizia e i carabinieri non per minuire la loro professionalità, è l'amico che ti aiuta nel momento in cui sei in difficoltà, l'amico che ti sa veramente come aiutarti, allora è nata questa bella cosa, spontaneamente abbiamo chiesto, mi piace non ci siamo, era fuori, a Vittorio, a visitare delle fotografie, con spontaneo durante la nostra visita, e facciamo questo calendario, il calendario di questo gemellaggio, diciamo tra San Daniano e Vici del Fuoco, amici con amici, e questa semplice realtà, insomma, sono delle foto meravigliose perché non in posa, scattate in momenti di interesse, perché loro sono stati così attenti a spiegare tutte le loro realtà, insomma, come intervengono, qualsiasi cosa, quindi siamo stati tutti veramente attenti, abbiamo provato, siamo energitati, anche noi, quindi è stato veramente un pomeriggio molto bello, e abbiamo chiuso con questo calendario, in modo che a casa, praticamente, ognuno si riguarda, vede la foto di Conte, in quel momento, volevamo comunicarlo alla cittadinanza, l'assessore, sempre con noi, qualsiasi cosa facciamo, veramente, anche se poi ci vuole ringraziare personalmente, è sempre presente, insomma, nella nostra realtà, e che dire, grazie, perché è veramente stata un'esperienza molto bella, dei calendari, li abbiamo potuti veramente stampare, grazie all'esponsor, che non è potuto venire, l'oreficeria Martino, il signor Michele è sempre gentilissimo, qualsiasi cosa noi chiediamo, è sempre disponibile, o accoglie qualsiasi nostra iniziativa, e quindi li abbiamo stampati, si potrà, con un'offerta, ritirare il centro San Damiano, perché non lo facciamo niente di, con un'offerta, insomma, ci sono poi cose che noi, se riusciamo a realizzare qualche cosa, saranno sempre i punti destinate a delle uscite particolari che noi facciamo, perché noi siamo andati anche alla spa, quello ragazzi, lo date alla più di palma, quindi voglio dire, non è che rimaniamo al centro, noi riusciamo, e allora, i calentari, insomma, possono, la vendita dei calentari, voglio fare, possiamo fare qualcosa di più. Se non testimoniare del lavoro intenso, diciamo così, di cucitura, di riempimento degli spazi, non ci devono essere volte, non ci devono essere distanti, il centro San Damiano lo fa, lo fa con dedizione, abnegazione, ma anche con grande professionalità, perché poi non deve passare il messaggio. Il centro San Damiano della cooperativa Sirio ha fatto una serie di uscite con i loro ragazzi, i loro ospiti, sono venuti anche qui da noi, hanno realizzato delle foto, è stato pubblicato poi, grazie a delle aziende, anche sponsor, questo calendario, cui ricavato poi andrà in beneficenza, quindi noi siamo contenti di questo fatto, perché innanzitutto noi abbiamo passato una mezza giornata bellissima con i ragazzi qui, che sono stati con noi, erano contentissimi come lo eravamo noi, quindi è stata una bellissima iniziativa, noi siamo sempre pronti a questo tipo di iniziative, quando si ha a che fare con ragazzi, con bambini, con disabili, siamo sempre in prima linea. Non a caso siete sempre il corpo più amato degli italiani. Per fortuna, ce la giochiamo noi e i carabinieri, che sono un corpo altrettanto eccezionale come noi, presente sul territorio e quando c'è bisogno si sa chi trovare. Che tipo di foto sono Aldo? Sono foto che sono state realizzate qui, mentre stavamo facendo vedere i mezzi, abbiamo fatto usare anche alcuni attrezzi, la lancia con l'acqua, abbiamo fatto usare anche qualcosina di nostro, la foto con l'elmetto, quindi abbiamo fatto queste cose che un po' facciamo sempre, però nonostante abbiamo le visite a tante scuole, qui anche l'anno scorso circa 600 bambini sono venuti dalle scuole primarie, fino anche all'asile abbiamo avuto bambini piccolissimi che gironzolavano qui per la caserma, e sono foto realizzate durante la loro presenza, quindi scattate anche casualmente, quindi che non sapevano. Abbiamo fatto un po' questa raccolta fra il fotografo che avevano loro e qualche foto che abbiamo realizzato, e penso che sia uscito. Io non l'ho visto perché non hanno voluto svelare nemmeno a me questa sorpresa, però sono convinto che sarà una bella cosa. Senti, quando vengono i bambini, quali sono le richieste più frequenti che vi fanno? Guarda, con i bambini sapete che noi siamo portatori di buona volontà dell'UNICEF, dal 91 abbiamo avuto questa onorificenza, e ci tengo a dirlo, unici pompieri al mondo, c'è nessun corpo negli altri stati che ha avuto questa onorificenza dell'UNICEF, facciamo tantissime iniziative con loro, quindi con i bambini abbiamo questo rapporto. Poi adesso abbiamo anche sempre il pompiere che ci aiuta come cartone animato, e devo dire che le domande sono molto pertinenti adesso, sono anche precise, non sono più come una volta e paghe, sono anche, ma dov'è la manichetta, ma dov'è la lancia, ma sono anche tecniche, quindi abbiamo un bel da fare. Noi ci accontentavamo del camion con la scala e passa. Eh sì, adesso sono molto, sanno i particolari, quindi dobbiamo impegnarci un po' di più. Dovete stare attenti anche a quello che rispondete. Certamente. Dov'è vendibile il calendario? Non lo so, guarda, questa è una sorpresa, ripeto, anche per me, perché mi hanno detto questa cosa poco prima di Natale, ci guarda, abbiamo intenzione, se è possibile vorremmo presentarlo da voi, e noi siamo stati ovviamente disponibili a questo. Top secret su tutto, quindi lo sapremo dopo, anche io per la prima volta, perché non hanno voluto nemmeno, nonostante le insistenze. Un'emozione. Sì, sarà bello così. Senti Aldo, una domanda tecnica, si avvicina a Capodanno e sappiamo tutti a che cosa mi riferisco. Voi siete pronti per l'evento? Noi siamo pronti, ma speriamo che siano pronti soprattutto i cittadini che dovranno prendere parte ai festeggiamenti, che la festa resti una festa e nient'altro. Tutte le altre cose bisogna cercare di avere dei comportamenti il più possibili e consci di quelli che potrebbero essere poi le conseguenze. Sappiamo quello che è successo a Senigallia, da lì è partito tutta una serie di verifiche e di controlli da parte delle forze dell'ordine, quindi anche da parte nostra per quanto riguarda la sicurezza dei locali, soprattutto quelli da ballo che verranno utilizzati nell'ultimo dell'anno. Quindi c'è una grande attenzione, ma la grande attenzione bisogna che ci sia anche da parte delle persone che poi usufruiscono e che ci sia una richiesta da parte loro di sicurezza. Cioè anche le persone quando vedono locali che sono particolarmente affollati hanno il diritto di stare in sicurezza con le loro famiglie e quindi possono anche rivolgersi a noi, al 112, al 103, insomma alle forze dell'ordine. Per i classici botti invece qual è il consiglio che vuoi dare? I botti per fortuna nel corso degli anni si è un po' perso l'utilizzo dei botti molto pericolosi. C'è ancora una frangia di persone che utilizza quelli vietati, però vedo che negli ultimi anni la maggior parte sta utilizzando quelli di libera vendita, quindi che sono più giochi di luce, non dico innocui perché nulla è innocuo, però si possono usare con piccole accortezze, rendere lo stesso felice l'ultimo dell'anno ma senza esagerare. In effetti gli ultimi tempi qui a Termoli sembra molto di meno, perché di questi giorni era una Santa Barbara, scusate il termine della vostra Santa Barbara, però veramente era una cosa incredibile. Sì, comunque è vero, c'è un'acquisizione di consapevolezza che quelli, anche perché poi il botto vietato è solo un botto, cioè alla fine non c'è nient'altro che una grossa esplosione e finisce lì, invece i giochi di luce sono anche belli, e fortunatamente iniziano a piacere più quelli che non i botti. ...e che siano professionisti lo si vede anche nella qualità del lavoro professionale, nei miglioramenti, nelle capacità che da parte degli utenti del centro crescono, si migliorano. E' quello che dobbiamo fare, farli sentire parte di noi, stare con loro, ma anche aiutarli in un periodo di crescita, di sviluppo e di progresso individuale e personale. ...e un piacere essere a disposizione del cittadino di entrare nella nostra missione, però in questa situazione è oltre che un dolere, è un volerci essere, voler partecipare, nelle attività che sono rivolte a persone che hanno necessità di un supporto, tutte e due, sicuramente. La nostra volontà è quella di affiancare chiunque ne avesse bisogno, e quindi di essere in collaborare con il Comune per poter dare alla cittadinanza intera la risposta migliore possibile. A parte mia vorrei solo raccontare un po' l'esperienza che abbiamo avuto raccogliendovi qui. Per noi è stata una bellissima giornata, quindi sia di preparazione prima, ma anche quando voi siete venuti a trovarci. Avete visto quanti colleghi sono venuti di turno libero, quindi erano a casa, sono venuti di corsa, più di qualcuno. Quindi abbiamo avuto un grandissimo piacere che siete stati qui con noi un po' di lugio, e abbiamo fatto tante cose insieme, tante cose che resteranno a voi nella vostra mente, ma resteranno anche nella nostra, perché anche noi le abbiamo vissute come un qualcosa veramente di bello, una bella giornata, quindi vi ringraziamo per essere stati qui con noi e ci vedremo qualche altra volta e faremo un programma anche di qualcosa per farvi spursare l'acqua e faremo fare qualcos'altro. Andremo sempre più su, potrete diventare gli spieghi, per quanto ci serve sappiamo chi dobbiamo chiamare. Grazie a voi, grazie a voi.